Quasi il 91% degli italiani, anche chi non pratica alcun esercizio fisico, ritiene la pratica sportiva fondamentale per il proprio benessere e lo stato di salute sia fisica che mentale e 8 su 10 sono convinti che sia uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie, tanto che quasi il 79% vorrebbe svolgere più attività fisica di quella che effettivamente svolge ogni giorno. Questi sono alcuni dei dati emersi da una ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, Associazione Nazionale Farmaci di Automedicazione, parte di FederChimica e presentati in un evento stampa dal titolo Salute in Movimento dalla Prevenzione e rimedi per i piccoli disturbi. Una buona occasione per tornare a parlare di sport e salute con gli esperti. Sappiamo ormai che l'attività fisica fa bene alla salute, sia appunto fisica che mentale. Vogliamo ricordare quali sono i principali benefici per tutte le età? I benefici sono molteplici, sono tantissimi e riguardano tutte le fasce di età. Non c'è distinzione maschi, femmine, va tutto molto bene. L'attività fisica, il movimento regolare costante è uno strumento di prevenzione e di terapia fondamentale per molte condizioni patologiche. Ci aiuta a stare bene dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista psicologico e mentale. I benefici vanno ben al di là del solo incremento del dispendio di energia, che è un po' forse il motivo principale per cui la gran parte delle persone si dedicano alla pratica sportiva. Va bene al di là perché in realtà gli effetti maggiori sono in funzione dell'azione anti-infiammatoria, anti-ossidante che l'esercizio è in grado di svolgere. Il muscolo è un vero e proprio organo neuroendocrino, produce tantissime sostanze che hanno tutti degli effetti positivi e benefici sul nostro organismo, sia fisicamente che mentalmente. quindi è uno strumento che noi dobbiamo saper usare, dosare, senza eccedere, con molta pazienza e con la consapevolezza che è una terapia che si fa sempre, tutta la vita, ma è una terapia piacevole, è una terapia che ci fa star bene, che ci dà gioia e che non costa nulla. Questo a tutte le età, in maniera trasversale. Ci sono invece delle controindicazioni allo svolgimento di alcune attività sportive, attività fisiche per alcune particolari condizioni. Penso per esempio a chi è sorappeso, oppure a chi fuma, a chi ha dei dolori articolari. L'attività fisica deve essere scelta e praticata nelle maniere opportune, ciascuno ha le sue. Quindi non ci sono limitazioni assolute. Bisogna saper scegliere quale tipo di attività fisica è la maniera più corretta per praticarla. Nel caso per esempio dell'obesità, almeno nelle forme più gravi, sarebbe sconsigliabile, almeno all'inizio, praticare la corsa, perché l'impatto che si ha nella corsa con il suolo può creare delle azioni di sovraccarico sulle articolazioni, la caviglia, il ginocchio, l'anca, anche la schiena, la parte lombosagrale, che forse non sono, diciamo, ottimali. Quindi in quel caso cominciare con la camminata, fare la bicicletta, la ciclette, oppure ancora meglio fare un lavoro in acqua, perché senza la forza di gravità, la spinta verso l'alto dell'acqua ci permette di fare un lavoro di alta intensità senza sovraccaricare le strutture muscolari, articolari e osse. Quindi ognuno ha la sua attività, in base anche al piacere di farne una piuttosto che un'altra, e va semplicemente incoraggiato e indirizzato verso una pratica efficace e allo stesso tempo sicura. Human Highway ha condotto per Asso Salute una ricerca dedicata al tema degli italiani sport e salute. Ci racconta in sintesi quali sono i risultati più importanti emersi? Possiamo dire tre. Il primo risultato è che la quota di popolazione che fa regolarmente attività sportiva è cresciuta di 10 punti percentuali in 10 anni, passata dal 59% nel 2012 al 69% nel 2022. Questo è un buon dato. La seconda è che chi non fa attività sportiva ritiene che questo non abbia effetti sulla salute, effetti positivi sulla salute. In realtà dietro a questa motivazione c'è essenzialmente la pigrizia, non trovare una motivazione sufficiente a mettersi in gioco sull'attività sportiva. Il terzo elemento è che aumentando la quota di popolazione che fa sport aumentano anche i piccoli infortuni e i disagi conseguenti all'attività sportiva, per cui le persone si rendono conto che devono essere dotate non solo con una strumentazione o una attrezzatura adeguata per l'attività sportiva, ma anche quelle conoscenze relative alla dieta, all'idratazione, alla prevenzione dei piccoli infortuni che poi consentono di svolgere attività sportiva in sicurezza. Nella vostra ricerca avete anche cercato di capire quali sono i principali inibitori allo svolgimento dell'attività fisica, cioè perché non si fa attività fisica, che cosa avete capito? La gente che non fa attività sportiva, principalmente donna piuttosto che uomo e poi è una quota crescente con l'età, quindi al crescere l'età diminuisce l'attività sportiva, le persone dicono di non avere tempo, ma dietro a questo in realtà si nasconde una serie di elementi che io interpreto come non avere sufficiente motivazione, perché il tempo per fare le cose importanti si trova e se uno ritiene che l'attività sportiva sia un elemento importante della propria vita anche per la propria salute, può riordinare le priorità della vita inserendo anche questo elemento. Un altro aspetto su cui avete indagato è il ricorso ai farmaci di automedicazione, anche qui avete rilevato delle differenze tra uomo e donna, perché a volte per un banale disturbo effettivamente si può fare da sé senza andare dal medico, in questo caso cosa è venuto fuori dalla vostra ricerca? Sì, il ricorso al medico riguarda circa il 30% di chi fa attività sportiva a seguito dei piccoli infortuni, dei piccoli incidenti, è una prassi più maschile che femminile, così come andare dal farmacista di fiducia, mentre la donna aspetta che passi, sostanzialmente la donna ha un altro approccio con l'infortunio, o si cura da sola o aspetta che passi, l'uomo invece delega a un professionista la soluzione del problema. Dall'indagine condotta da Human Highway è emerso che negli ultimi 5 anni gli italiani che praticano sport, ai quali è capitato di avere un piccolo incidente, un infortunio, sono passati da 8 a 10, cosa che chiaramente può succedere perché appunto è un evento. Ci racconta un po' quali sono gli infortuni, i problemi più diffusi che possono verificarsi quando si fa attività fisica? Beh, li dobbiamo distinguere gli infortuni, gli incidenti, i malanni e gli imprevisti dovuti all'attività fisica, classicamente in due forme, quelle acute, l'infortunio vero e proprio, una sconnessione del suolo, del pavimento e un incidente, per sapere, un trauma distorsivo, un fenomeno di lesione più o meno grave a carico dei muscoli, la classica o stiramento o contrattura anche solo del muscolo fino alle forme più gravi di rottura e strappo. E poi ci sono le forme cosiddette da sovraccarico funzionale, quando noi esageriamo nel lavorare con i nostri muscoli, con i nostri tendini, oppure quando li utilizziamo in una maniera non corretta, cioè eseguiamo male il gesto, corriamo male, solleviamo male i pesi. Allora, in questo caso si creano delle condizioni che sono una premessa per l'insorgenza di alcuni disturbi. Oltre a questo dobbiamo anche tenere conto delle nostre caratteristiche fisiche, nel senso che se qualcuno ha un'anomalia, per esempio, degli arti inferiori, un ginocchio valgo, un ginocchio varo, questo chiaramente può favorire un gesto tecnico scorretto e quindi creare le condizioni per cui si può creare una lesione. Ci dice allora cosa devono fare più attenzione agli adulti e a che cosa invece i ragazzi devono prestare attenzione, che anche i ragazzi spesso, è vero che sono più giovani, più forti, più solidi, però magari anche meno esperti, per evitare che allenandosi abbiano un infortunio? Per i ragazzi direi che il consiglio è quello di innanzitutto di fare sport, perché l'evento peggiore che possano avere è proprio l'esatto opposto, cioè non fare attività fisica. Ma i ragazzi sostanzialmente devono solo avere la pazienza di attendere che anche il loro corpo maturi e sia in condizione di fare un determinato lavoro, perché se invece vogliamo anticipare i tempi, quel lavoro è inutile e può anche essere eventualmente dannoso. Per gli adulti invece il consiglio è quello di non strafare e di non pensare di essere perennemente giovani, sapersi adattare alle proprie condizioni, man mano che si va avanti con gli anni anche l'organismo risente, anche se mentalmente ci sentiamo giovani, qualche articolazione, qualche legamento ogni tanto ci ricorda che così tanto giovani non lo siamo. Quando si tratta di piccoli infortuni, il ricorso ai farmaci di automedicazione rimane il comportamento di cura più diffuso. Leggevo i dati della ricerca di highway, il 41,3% si cura da solo con farmaci da banco. Come possono venirci in aiuto i farmaci di automedicazione per risolvere questi disturbi lievi causati a volte dall'attività sportiva? Sono assolutamente benvenuti, anche perché ci permettono di risolvere anche rapidamente i problemi che eventualmente si presentano. Sono di aiuto perché quasi sempre questi disturbi, queste lesioni sono di lieve entità, tanto lievi che non ci portano dal medico in un pronto soccorso, quindi assolutamente sono di entità lieve e di durata anche sufficientemente breve per cui un tentativo di automedicazione fatto ovviamente con le dovute cautele e consapevolezze sicuramente può essere uno strumento valido, anzi consigliabile per certi versi. Ovviamente quando la sintomatologia dovesse persistere per più giorni, allora è il caso di consultare un medico o anche di rivolgersi in alcuni casi al consiglio del farmacista che sicuramente ci può dare un'indicazione utile, sempre ciascuno nel rispetto dei propri ruoli, il farmacista è il farmacista, il medico è il medico. Facciamo un esempio, una delle cose più tipiche che può capitare in palestra è una distorsione, per esempio, allora lì che tipo di farmaco di automedicazione può esserci d'aiuto? Nell'immediato su un trauma distorsivo il farmaco di automedicazione, più che un farmaco un presidio può essere l'applicazione di ghiaccio, quindi le varie forme e formulazioni di ghiaccio, dallo spray alla busta di ghiaccio sintetico, come si chiama volgarmente, in qualche maniera. Successivamente invece, fermo restando il concetto del riposo, dell'elevazione dell'arto ed eventualmente della compressione con ghiaccio, possiamo aggiungere al ghiaccio, al freddo, anche l'applicazione di pomate, di creme in formula gel, quindi che generano comunque una sensazione di freddo, che contengano principi che hanno un'azione anti-edemigena, quindi riducano l'edema, la formazione del gonfiore, riducano anche la fuoriuscita di sangue o favoriscono l'assorbimento del sangue quando si tratti di un trauma distorsivo piuttosto importante e poi anche, diciamo, l'elemento utile anche che ci sia eventualmente anche un preparato antidolorifico. In questo senso, per esempio, oltre alle creme, possono essere utili anche i cerotti antinfiammatori, perché hanno il vantaggio di limitare l'azione della molecola, della sostanza in sede, in loco, senza impegnare l'organismo in forma sistemica. Ciao!